La frase d'ordine mercoledì sera sembrava essere fateci godere. In effetti è stato così perché nel primo memorial Michele Perrini la polisportiva ha battuto 5 a 3 la social altamura che sarà impegnata in serie C. Nonostante si sia trattata dalla prima uscita le loncelle hanno fatto vedere tanto eppure da gioia per gli occhi gioco veloce triangolazione giocate sopra fine pressing da tutto campo eppure qualche azione sbagliata figlia del voler piacersi troppo diversi ragazzi non hanno lavorato anche sotto l'aspetto aspetto tattico però io ho cercato in pochi minuti di di dire a loro quali erano i compiti che volevo da loro oggi non non pretendevo non pretendevo molto e sono mancate quello che dici tu sono mancate un po gli appoggi da parte delle ragazze e molte volte eravamo solo con un appoggio quindi avevamo difficoltà anche a scaricare la palla c'è molto da fare sappiamo dove dobbiamo lavorare pensavo qualcosina peggio sotto l'aspetto fisico impossibile fare commenti ed è vietato illudersi ma la strada imboccata dalle neroverdi sembra essere quella giusta e una cosa è certa la qualità e la quantità viaggiano di pari passo nel giocattolo costruito con sagaccia dal direttore sportivo francesco solito la seconda uscita sarà a fine mese con il bisceglie squadra di serie a